Dare valore alla cultura gastronomica marchigiana trasformando le ricette tradizionali in farciture di pizze gourmet. Col progetto Pizze di Marca, proposto da Camera Mark e dalla sua azienda speciale Linfa, si raccontano le peculiarità dei nostri territori in abbinamento ai vini Doc e di OCG. Ad oggi, 33 ristoratori marchigiani condividono questo ambizioso obiettivo, impegnandosi a realizzare le pizze secondo gli ingredienti e le ricette tipiche. Per ogni provincia sono state elaborate due versioni, in base a stagionalità, autunno-inverno e primavera estate, e prodotti tipici dei vari territori, in modo da offrire ai clienti delle pizzerie la possibilità di gustare una regione nel piatto. Per la prima volta nel menù è presente questa pluralità di elementi della terra marchigiana, che inorgogliscono i produttori e rendono la complessità dei territori. Alla presentazione ufficiale nella pizzeria La Scaletta di Mirko Petracci ad Ascoli, anche Simone Mariani, presidente dell'azienda speciale Linfa. Unire la pizza agli ingredienti classici, tradizionali della tradizione marchigiana, dal nord a sud delle Marche, con l'eccellenza dei prodotti di questa regione, che trovano sulla pizza un'interpretazione nuova, moderna, innovativa, e quindi la creatività degli chef pizzaioli in questo momento non ha limite. E allora dall'oliva scolana alla casciotta d'Urbino, dal finocchio selvatico all'anice di Castignano, insomma abbiamo veramente una molteplicità di sapori e di ingredienti che impreziosiranno delle pizze che diventano ovviamente pizze di marca, pizze gourmet che piaceranno a tutti i nostri concittadini. I produttori aderenti al progetto si impegnano ad attenersi a modalità di realizzazione di questi piatti rispettando requisiti di prossimità e qualità degli ingredienti nel rispetto delle origini. Le Marche si confermano giacimento di prodotti tipici, ma non solo enogastronomia. Iniziative come questa hanno una forte ricaduta, soprattutto sul settore del turismo e accoglienza. Oggi parliamo di pizza, però sono tante le eccellenze della nostra regione che dobbiamo porre nel massimo risalto nelle azioni che noi stiamo portando avanti con la Camera di Commercio. Lo stiamo facendo, il presidente Gino Sabatini è di quest'idea che condividiamo noi tutti della Giunta e che ci dà la possibilità, come dicevo prima, di coniugare enogastronomia con il turismo perché la gente sceglie il territorio e nel momento in cui sceglie il territorio sceglie anche l'eccellenza del territorio enogastronomiche perché poi una volta arrivata nelle nostre città vuole anche godere di queste eccellenze.